pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa quinta domenica continua quella che alcuni studiosi chiamano la giornata o meglio il sabato tipo di gesù noi ci soffermiamo in particolare sulla guarigione della suocera di pietro essendo il primo miracolo ci offre non solo le coordinate per interpretare tutti gli altri ma è un segno profondo che ci rivela ciò che gesù è venuto a compiere nella vita delle persone ciò che gesù vuol compiere nella nostra vita andiamo al testo gesù esce dalla sinagoga e va subito a casa di simone e di andrea quindi siamo a casa di pietro in compagnia di giacomo e giovanni proprio la primissima piccola comunità i quattro che gesù ha chiamato lungo il mare di galilea ricordate e vanno a casa di pietro gli sa per condividere il pranzo probabilmente dopo la sinagoga ma c'è un significato simbolico anche profondo perché perché qui si passa dalla sinagoga alla casa di pietro è un luogo dove gesù si appoggerà spesso ed è anche un luogo di riunione con i suoi discepoli e di insegnamento secondo voi cosa può simboleggiare la casa di pietro la chiesa abbiamo dunque gesù che va a casa di pietro e andrea e che cosa succede che qui c'è la suocera di simone che è allettata e poverine ammalate a letto con la febbre subito parlano a gesù di lei bellissimo vedete in fondo che cosa è la preghiera di intercessione e parlare a gesù dei problemi delle sofferenze dei bisogni degli altri e gesù si avvicina quindi questa intercessione potremmo dire porta frutto che bello un giorno in cielo quanti grazie diremo tantissime persone scopriremo che dietro la nostra conversione dietro tanti momenti difficili superati c'è stata sì ovviamente e anzitutto la grazia di dio ma anche la preghiera l'offerta di tante e tante persone tanti fratelli e sorelle nella fede che hanno interceduto e offerto anche per noi gesù che cosa fa si avvicina la prende per mano e la fece alzare gesù non dice nessuna parola non offre nessuna medicina non compie nessun gesto magico e neppure invoca da dio la guarigione lui stesso semplicemente la prende per mano e la fa alzare ricordate sempre la domanda ma chi è gesù chi è questo che può fare queste cose e lei attenti perché qui il cuore che cosa fa la febbre la lasciò e lì serviva ecco dunque il punto centrale non è tanto il fatto che gesù la guarì certo questo ci fa pensare dire chi è gesù ma che effetto porta il contatto di gesù con questa donna che si mise a servirli questo termine gesù lo applicherà se quando dirà che il figlio dell'uomo cioè lui stesso non è venuto per essere servito ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti cosa opera dunque il passaggio di cristo nella nostra vita cosa comporta lasciarci prendere per mano da lui il lasciarci toccare dalla sua grazia quello di passare dall'essere bloccati centrati su noi stessi e ripiegati su noi stessi al diventare capaci di servire di dare anche noi la nostra vita per gli altri potremmo dire che il passaggio dall'egoismo dalla schiavitù dell'egoismo che ci blocca e ci porta a servirci degli altri al diventare passo dopo passo come dio stesso in un certo modo cioè amore cioè capaci di servire gli altri d'altronde il miracolo stesso ci dice che dio si mette al nostro servizio dio che entra nel cuore si mette al nostro servizio perché possiamo diventare come lui ci ha sognati perché possiamo amare del suo stesso amore capite allora perché marco sta collocando qui questo testo perché ci dice ciò che il signore è venuto a compiere nella vita dell'uomo e dunque che guarigione porta la presenza di dio nella nostra vita che man mano diventi sempre più capace di servire di amare di decentrarti di non vivere centrato e bloccato su di te ma non solo c'è un significato ancora più profondo il termine che qui usa per dire la fece alzare in greco lo stesso verbo della risurrezione cioè potremmo tradurre che gesù si avvicinò a questa donna e la risuscitò prendendola per mano ci fa capire che davvero lasciare entrare gesù ora nella nostra vita vuol dire non solo essere liberati dall'egoismo ma risuscitare proprio a vita nuova avere in noi la sua vita la vita del risorto e questa vivendo in comunione con lui ci farà risuscitare anche dopo la morte quindi marco in questo semplice miracolo diciamo così ci sta facendo capire tutto ciò che opera cristo nella nostra vita la liberazione dall'egoismo la risurrezione a vita nuova per risorgere un giorno anche dopo sorella morte bellissimo vogliamo ora così soffermarci in conclusione proprio sulla nostra vita quotidiana gesù entra questa casa che cosa trova malattia aria stantia trova bisogno trova sofferenza trova incapacità di servire e in fondo quello che trova in tante case in tanti cuori anche forse nel nostro cuore ora ma soprattutto prima che lo incontrassimo verrete il signore non ha paura di entrare in questo disordine non ha paura di mettere mano dove c'è sofferenza dove c'è incongruenza dove c'è groviglio dove c'è malattia ecco il signore non ha paura di questo entra anche grazie agli altri all'intercessione degli altri entra nel disordine per mettere ordine entra nella malattia per portare vita per portare salvezza entra entra e ci tocca prende questa donna per mano e continua a toccare anche noi dio ci tocca con la sua grazia ci tocca interiormente prende contatto con noi viene a prenderci per mano che bello quando tu sei vicino una persona che soffre la prendi per mano la tieni per mano è il primo modo per dirti anche col linguaggio del corpo ti sono vicino il signore viene a prenderci concretamente per mano senza paura di contagiarsi di respirare la nostra aria malata affinché affinché possiamo davvero risuscitare a vita nuova la casa di pietro era una casa che non funzionava bene c'era qualcosa che bloccava qualcuno che aveva smesso di servire dunque di vivere ecco gesù entra per riportare capacità di servire di vivere di amare tanti vivono bloccati su se stessi centrati su di sé il mondo potremmo dire si distingue in due grandi categorie chi si sa prendere cura degli altri e chi vive aspettandosi sempre che gli altri si prendano cura di lui eterni infanti non usciti da una profonda immaturità egocentrica quante problematiche umane psicologiche sono causate o comunque alimentate dal ripiegamento egoistico su se stessi quanti sono ammalati di febbre dell'egoismo sempre a piangersi addosso rimuginando su ciò che gli altri dovrebbero fare per loro o su ciò che non hanno fatto sempre a centellinare favori ricevuti e a rinfacciare quelli non ricevuti continuamente insoddisfatti di ciò che gli altri dicono fanno perché non è mai ciò che loro si aspetterebbero o vorrebbero ed eccoli inchiodati sul divano della tristezza in balia delle onde del malumore gesù viene a guarirci a prenderci per mano a risollevarci infonde in noi il suo spirito la sua forza di amare perché interiormente siamo liberati da questa prigionia e grazie anche ai nostri sì possiamo diventare capaci di amare come lui sì il signore ci tocca con la sua grazia e ci invita ad alzarci a lasciare il letto del piagnisteo perché possiamo donarci per il bene degli altri regalando gioia a chi abbiamo accanto e questo vale per le piccole come per le grandi cose e inizia dal chiedersi ma come posso amare di più tizio come posso rendere più felice caio cosa posso fare per sempronio la suocera prima doveva essere curata riceve la visita del signore ora si prende cura tanti hanno bisogno di fare esperienza di questa tenerezza di dio e tante volte questo sentirsi presi per mano è mediato da ciascuno di noi dal nostro farci prossimi degli altri e infine questa donna si mise a servirli sapete qual è il termine ve lo dico tanto è facile diaconein si richiama proprio la diaconia che indica un servizio in tutto e per tutto questa donna è la prima icona di gesù la prima icona proprio della credente che vive la sua vita come un servire in tutto e per tutto ci dice proprio il senso profondo del lasciare entrare gesù essere rialzati da ciò che ci blocca che ci paralizza e essere resi capaci di servire chiediamo allora davvero la grazia al signore che questo accada sempre e di nuovo nella nostra vita e che così a nostra volta possiamo aiutare il nome suo tanti a rialzarsi che davvero possiamo vivere così la nostra vita pace e bene